che ci siano alcuni atleti con pochi centimetri di più 71 e 15, 71 e 26 viene da quel 20 e 85 e poi Ezeosa de Salu ha il quinto tempo fra i partenti quindi deve cercare di correre il più forte possibile perché tra i primi tre dura De Salu sarà in ultima quarta e in quarta corsia Smielic che qui vediamo scappa via Ben Basso Ramil Gulliev rimonta su Smielic che va a vincere sesto De Monte 20 e 49 Gulliev meglio il rettilineo della curva è venuto su molto bene anche Ben Basso 20 e 73 il suo primato stagionale De Monte ha fatto 20 e 82 di stagionale 20 e 90 è il terzo tempo di ripescaggio l'ultimo 50 metri manca 120 metri buoni poi si è un po' spento mentre Smielic è venuto fuori molto bene completamente in controllo e decontratto quindi margini di miglioramento 20 e 49 con un metro e mezzo di vento contro direi niente male ecco qui la partenza è buona anche l'accelerazione si mette in moto bene infatti rimane lì con le stesse distanze dei blocchi e una volta lanciato sul rettilineo ecco invece che venire fuori si indurisce un pochettino nell'azione perde le frequenze lo slancio e rimane un po' lì sui livelli dei suoi stagionali comunque non è andato male sì ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui Grazie.